In nome del Capo dello Stato, voi vi conoscerete, il Capitano di Fregata Claudio Manganiello, quale Capo del Combattimento Marittimo e Comandante del Porto di Tempo. Il senso di ospitalità che è proprio della gente polisana, e di cui sarebbero per sempre un ricordo inderebile. Al Comandante Manganiello, un e a cinque passaggi del comando, rivolgo i miei più fermi di auguri di buon lavoro, con la certezza che anche lui saprà trovare un ambiente altrettanto accogliente e propizio per continuare a migliorare l'opera che mi sono adoperata per portare avanti due anni di attività. Viva la Guardia Costiera, viva la Marina, viva l'Italia! Assumo il comando della Capitaneria di Porto di Termoli, unico comando della Marina Militare nella Regione ed unica Capitaneria di Porto che ha giurisdizione nel Molise e nella Puglia, limitatamente alle Isole Trenti. In questi giorni, trascorsi con il Comandante Esposito, che ringrazio per la collaborazione e la disponibilità concessami, ho vivamente apprezzato l'ospitalità dei molisani e gli eccellenti rapporti che si sono instaurati tra la Capitaneria di Porto e le istituzioni a qualsiasi livello. Con questa amministrazione realizzerà una proficua e sinergica collaborazione che mire al bene della città, ma soprattutto della collettività. Grazie a tutti voi e di nuovo auguri al nuovo Capitano Mancaniello. Grazie.